Un nuovo giorno da Sara Mazzoni, cosa stiamo facendo? Stiamo andando al caseificio a prendere della ricotta, per la colazione penso. E quindi formaggio di fredda fresca di montagna. Bravo! Eccolo il caseificio, due passi da casa, qualità. Eccolo l'acquisto, mostralo! E andiamo benissimo. Attenzione colpo di scena, Zaccaria, che fa un'incursione il retro del caseificio in maniera illegale, la ricerca di non so cosa. Bene, è chiuso. Però almeno vediamo un po' di panorama. Perfetto, sono qua in sala che sto facendo esperienza di realtà virtuale, dato che Sara Mazzoni non offre tanto, mi devo accontentare di questa. No, scherzo, non è vero. Zaccaria, dove sei? Non ti vedo. Sono pensato davanti a te. Una realtà virtuale. Perfetto. Comunque abbiamo fatto anche questo. Adesso ci stiamo un po' ingannando in attesa della colazione. Comunque ecco il bellissimo salotto stile marocchino. La sorellina di Zaccaria, saluta. una lava. La colazione marocchina. Non si va. Tappa in stalla, un locale che attacca. No, 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 no Il grattatoio Riscopriamo la campagna Attenzione, sa la mungitura Da meglio gioventù Prosegue la scoperta delle colline modenesi Una bella passeggiata E continuiamo appunto l'esplorazione Verso quel di Rocca Santa Maria Ah beh Eccoci come dice il cartello L'ingresso a Rocca Santa Maria Non ci aveva appena annunciato il buon zacca E niente, godiamoci questa frazione di serra Sarà un gran giro Chiacchierata molto piacevole Su questa panchina Con le colline di cornice Grazie